Nelle scuole toscane di ogni ordine e grado le attività didattiche per l'anno scolastico 2013-2014 inizieranno mercoledì 11 settembre 2013 e termineranno di norma sabato 7 giugno 2014. Lo ha stabilito questa mattina la giunta regionale approvando all'unanimità su proposta della vicepresidente Stella Targetti che alla delega all'istruzione la delibera sul calendario scolastico. In base a comprovate esigenze le singole istituzioni scolastiche autonome, comunque d'intesa con gli enti locali che erogano i servizi scolastici potranno anticipare la data di inizio delle attività a lunedì 9 settembre. I giorni di lezione per l'attività didattica svolta su sei giorni settimanali sono complessivamente 206, 205 compreso il Santo Patrono e calano a 173, 172 compreso il Santo Patrono per le scuole in cui le attività didattiche sono svolte su cinque giorni. Nelle scuole di infanzia le attività educative termineranno il 30 giugno 2014. Oltre a tutte le domeniche le altre festività sono venerdì 1 novembre 2013, tutti i Santi, l'8 dicembre cade di domenica, il 24 e 25 dicembre, il 1 gennaio, lunedì 6 gennaio, domenica 20 e 21 aprile, Pasqua e lunedì dell'Angelo, venerdì 25 aprile, giovedì 1 maggio, lunedì 2 giugno. Oltre che, comune per comune, la festa del Santo Patrono. La festa della Toscana il 30 novembre non prevede sospensione di attività didattiche né chiusura delle scuole.